abbiamo con noi la fortuna oggi di avere johnny ray il più titolato campione del mondo della superbike 119 gare un record assoluto e ben sei campionati mondiali vinti più di ogni altro pensate il doppio di quelli che ha vinto troi bellis johnny we are here in milan we speak about the new year the new bike the new team what do you think about the yamaha you test a few time this bike but there is something you like on this bike and on the new team johnny siamo a milano e parliamo del nuovo anno della nuova moto del nuovo team parliamo soprattutto della nuova yamaha puoi dirci già se c'è qualcosa di particolare che ti piace del team della moto che hai testato ancora poco nei test di porti mao grazie innanzitutto è molto bello essere yamaha sono molto curioso di guidare la yamaha r1 il team è stato fantastico fin dal momento del mio arrivo mi sono sentito davvero il benvenuto la moto è veramente buona grande potenziale il telaio la stabilità e la frenata è un mezzo che si adatta bene al mio stile di guida spero di fare un passo avanti per sfruttare il mio potenziale e competere per vincere delle gare e il titolo mondiale siamo in italia qui vicino milano germano di lesmo c'è la base operativa di yamaha superbike è un team italo giapponese in pratica sponsor sono pata e promettono entrambi italiani promettono che realizza i promatici da track cosa pensi qual è il tuo rapporto con l'italia e col tuo team quando mi sono unito a yamaha all'inizio non avevo compreso il dna di questo team il quartier generale yamaha europe racing è a milano con un compagno di squadra italiano andrea locatelli e sponsor italiani pata e prometeo conoscevo questi marchi dalle gare in imola o misano vedi il marchio prometeon ovunque ora prezzo meglio un grande gruppo la moto è magnifica la livrea rossa bianca e blu è splendida in tanti sono appassionati hanno visto le tue sfide con toprak con bautista e con tutti gli altri giovani della superbike le grandi lotte anche le carenate e tutto quello che abbiamo visto in pista durante i duelli per la vittoria dove trovi la motivazione per scendere in pista e lottare ancora non deve essere facile rimanere concentrati e potresti tranquillamente stare a casa davanti alla televisione con tranquillità che nessuno potrà a breve inficiare le tue vittorie io mi sforzo sempre per sfidare me stesso correre e vincere è la mia droga ho bisogno di vittorie e di cercare sfide ho avuto momenti buoni e momenti difficili voglio continuare a lottare e non sento che è il mio momento per tornare a casa a guardare le gare voglio essere parte di questo mondo eccitante voglio vincere altre corse e puntare ad altri titoli a questo capitolo della mia vita sportiva con Yamaha penso che possiamo raggiungere insieme obiettivi importanti sono sicuro che sarà una bella storia hai alle spalle una grande storia in Superbike il tuo primo podio è stato con Aga e Max Biaggi ora lotti con Locatelli e altri giovani rampanti nella tua lunga carriera può dirci quali sono stati i piloti più significativi quelli che ti hanno impressionato di più oppure più difficili da affrontare e perché? ho cominciato nel 2008 a Portimao ho cominciato nel 2008 a Portimao nella prima fila in griglia c'erano Troy Bayliss, Carl Crutchlow e io in carriera ho incontrato Bayliss, Aga, Corsair, Biaggi, Melandri, Spies, Gintoli, Bautista, Toprak e Tom Skies ho avuto a che fare con tanti piloti di grandissimo livello è impossibile dire chi sia il migliore Troy Bayliss, di sicuro, è stato il più completo e poi Max Biaggi perché il suo stile di guida era incredibile Max Biaggi per me è stato uno dei migliori in assoluto per le sue traiettorie pulite che era uno spettacolo ritrovare in pista un altro è stato Ben Spies ha fatto un lavoro incredibile venendo dal campionato nazionale di superbike statunitense e poi vincendo nella sua stagione d'esordio nel mondiale sono questi tre i rivali che considero più difficili nella mia lunga carriera in superbike adesso ho più esperienza, ogni anno è diverso ma all'inizio sono stato impressionato sicuramente da Biaggi e poi anche da Melandri il paddock da superbike è veramente diverso da quello da MotoGP dove tu hai anche corso ecco, cosa ti piace dell'ambiente del paddock da superbike è molto più vicino ai tifosi e questo può essere meraviglioso ma talvolta anche difficile perché il weekend diventa pieno di impegni non solo le gare ma anche eventi di marketing e incontri con i fan ma mi piace questo mi piacciono i tifosi e l'energia che c'è nel paddock il rapporto con gli altri team Kawasaki, Honda, Ducati e BMW è molto amichevole c'è rispetto è un lavoro serio quanto la MotoGP ma l'ambiente è eccitante e le gare sono incredibili sono orgoglioso di essere parte del mondo della superbike